Musica Sappiamo che l'arte è fatta di forma e contenuto, a Banks interessa il contenuto. Le opere di Banks sono dei messaggi, messaggi che vanno a tutti, ma per questo carattere ribelle colpisce al cuore soprattutto le giovani generazioni che leggono nei suoi messaggi un contenuto immediatamente comprensibile e vicino alla loro sensibilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.